Il settimo appuntamento nazionale che l'Associazione Senologica del Mediterraneo propone a Cava dei Tirreni per discutere dello stato dell'arte, tutto ciò che c'è di nuovo in campo oncologico-senologico. E quindi sono riuniti in questa cittadina, in questa location, tutti gli esperti nazionali dei settori per portarci proprio tutte le novità, e sono tante, in tutti i campi della senologia che vanno dall'epidemiologia, dall'agnostica, alla terapia. E dall'integrazione di tutte queste professionalità, di tutte queste innovazioni, può scaturire sicuramente un'ottimizzazione dell'assistenza e dei risultati nel trattamento della malattia oncologica.